Benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto, ovvero Federico Frusciante, un canale dove si parla di cinema, di musica, di letteratura, quasi tutto comunque collegato alla settima arte. Questo che state per vedere è un Frusciante al cinema, ovvero un video dove io parlo della prima impressione di un film che ho appena visto in sala, e quindi la prima impressione, come dico sempre, potrebbe cambiare in positivo e in negativo, la seconda, la terza, la quarta visione, sempre che il film magari secondo me ne meriti. Qui stiamo per parlare di un film che ha fatto un grande scalpore, che è candidato a 6.000 premi, ma del quale a me queste cose non interessano veramente niente. Mi interessa di più che il regista Lantimos, il regista greco che io seguo ormai da una quindicina d'anni e che non mi ha mai deluso, al di là di alcuna critica che continua a andarli contro, secondo me uno dei registri più importanti negli ultimi 20 anni, con Alps, con Dog Tooth, con il cervo sacro, ma anche con il tanto odiato da alcuni, la favorita. Secondo me è un regista che riesce a raccontare il mondo femminile, il mondo, e che lo ricirconda, e anche in un certo senso il mondo maschile, senza filtri e senza freni. Il film che lo porta all'attenzione di tutti, che sono andato a vedere al cinema, è questo Povere Creature, appunto come è che ha protagonista unica, in realtà vera, è Emma Stone, nel ruolo secondo me migliore di tutta la sua carriera per un film, è molto particolare questo Povere Creature, tratto dal libro di Alasdard Gray, che a quello che so era più politicizzato, in un certo senso più anticapitalista, per una, diciamo così, riduzione appunto dello stesso, che il nostro fa, girando tutto il film in Ungheria, girando con un grandissimo Willem Dafoe, tra l'altro nella parte di Godwin, appunto il creatore della nostra Bella, che è appunto interpretata Emma Stone, per un film completamente unico, secondo me è uno di quei classici film che può dividere, ma che essenzialmente è uno di quei film che ha tantissime cose da dire e da raccontare, e partiamo quindi con la trama. Max McCandles è uno studente di medicina di tal Godwin, appunto questo Willem Dafoe completamente sfigurato e distrutto appunto degli esperimenti che il padre scienziato faceva addirittura sul figlio e che lui continua a fare sempre su animali e su cadaveri e anche su persone inanimate, visto che il nostro Max viene invitato appunto a casa da questo Godwin per segnare tutto quello che cambia nella vita di tale Bella, un esperimento che il nostro Godwin ha praticamente fatto, ha trovato questa donna incinta, suicida, morta e con il feto ancora vivo e quindi ha deciso praticamente di trapiantare il cervello del feto all'interno del corpo appunto della madre, creando appunto questo ibrido frankesteniano in quella scena meravigliosa appunto dove gli dà l'elettricità e tutto il resto. La ragazza praticamente è come fosse una bambina e quindi ha degli atteggiamenti ancora molto difficili da capire, però lentamente comincia a crescere sempre di più a livello proprio umano e comincia a scoprire le cose che la circondano, tra cui la sessualità. Tutto questo porta il nostro Godwin che si è affezionato come se fosse una figlia, diciamo a questo suo esperimento, lo porta a chiedere a Max di sposare appunto Emma, visto che anche questo Max sembrerebbe comunque innamorato della stessa. Cosa succede però? Il nostro chiama appunto un avvocato per ridigere il matrimonio, tal Duncan Weatherburn, interpretato in maniera magnifica un Mark Ruffalo spettacolare, che però in un certo senso subito viene infatuato dalla bellezza incredibile appunto di questa donna e dalla sua voglia appunto di sesso continuo e decidono di scappare e partire per fare un viaggio, lasciandoli praticamente Max. Quindi parte il viaggio di questa donna insieme appunto a questo Mark Ruffalo, e cominceranno a girare il mondo. Partono dalla Londra vittoriana a cui è ambientato il film, che è un film comunque ambientato a una lorde vittoriana particolare, poi ne parleremo. Insomma la nostra va e fa il primo viaggio partendo da Lisbona e il suo carattere diventa sempre più ribelle, anticonvenzionale e completamente fuori dagli schemi appunto che sono stati dati da questa società che impone determinate regole anche quando queste sono contro una qualsiasi logica e contro una qualsiasi idea appunto di normalità, per quanto pensa appunto anche la nostra bellissima protagonista. E siccome la nostra ha voglia comunque di scoprire, fare i cazzi suoi a dirà appunto di quello che vuole Mark Ruffalo, Ruffalo decide praticamente di drogarla in un certo senso e portarla su una nave da crociera. E su questa nave da crociera è convinto di conquistarla di nuovo con sesso e tutto quello che lei ha voluto fino al momento prima, ma la nostra è in continua evoluzione. All'interno appunto di questa nave fa conoscenza con l'anziana Marta e il ragazzo di colore Harry che praticamente la portano di fronte alla filosofia, alla lettura, all'arte e tutto questo in realtà la comincia a cambiare di brutto. Al di là poi di questo la nostra arriva addirittura appunto ad Alessandria dove scopre la divarità incredibile fra ricchi e poveri e lì incomincia praticamente a buttarla di fuori, regala tutti i soldi che hanno e quindi vengono mollati giù dalla crociera a Marsiglia, arrivano fino a Parigi. Mark Ruffalo scopre che lei andrà a fare la prostituta perché lei per lei è una cosa normalissima dove incontrerà appunto un'altra ragazza di colore che la porterà in realtà verso il socialismo e il comunismo e quindi di lì poi la nostra farà un'altra storia fino al meraviglioso finale che non vi voglio dire perché sennò è tutto finito in un certo senso. Il nostro grande regista greco decide di raccontare appunto questa storia di questo romanzo attraverso una visione clamorosa a livello proprio estetico, intanto parliamo della forma la forma è a dir poco straordinaria, subito si inizia con quel meraviglioso colore blu con quest'idea incredibile di un Emma Stone così colorata con questa macchina che si avvicina lentamente ed è l'atto del suicidio che noi praticamente scopriremo attraverso Godwin Godwin non a caso God come Dio e in tutto questo praticamente, ripeto, la forma a quel punto diventa veramente magnifica e subito veniamo calati in un bianco e nero clamoroso dall'impressionismo totale, un espressionismo incredibile in questo bianco e nero veramente dotato di una forza micidiale nella quale viene praticamente raccontata tutta la prima parte della storia fino alla scoperta del sesso praticamente della nostra e il mondo diventerà a colori più o meno e in tutto questo troviamo appunto un'idea di messa in scena clamorosa dell'utilizzo di queste lenti anamorfiche giganti per cercare di dare lo sguardo più largo possibile di un qualcosa che in realtà rinchiude sempre di più la nostra perché la prima parte appunto Godwin non vuole assolutamente che lei abbia contatti con il mondo esterno primo per la paura di poter essere chissà attacciato di cosa e poi perché insomma ha paura proprio per il suo esperimento che ormai è diventato però una figlia per lui perché ricordo che Godwin presente fa esperimenti su cadavri, su gente viva unisce teste di maiale a porcelli e in un mondo completamente assurdo ed è qui la grandissima idea anche della forma arriviamo a un'alessandria clamorosa su questa roccia incredibile dove arrivano questi gialli questi colori rossissimi dove vediamo i poveri sotto in una maniera veramente devastante la forma acquisisce sempre più forza dal bianco e nero arriva sempre più al colore e questi colori si accendono sempre in più come si accende sempre in più la voglia di conoscenza della nostra la voglia di assolutamente riuscire ad andare avanti e con il libro Arbidio decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato secondo lei senza che nessuno di questi uomini decida appunto che cosa fare per il suo bene perché alla fine tutti comunque e che sia quello buono, quello cattivo, quello stronzo, quello infame cercano sempre in tutti i modi di portare verso il loro pensiero il pensiero di una libera come Bella Baxter che è completamente libera da ogni idea appunto di questo strato sociale che la vorrebbe sottomessa e inferiore e che non dovrebbe mai parlare incredibilmente e quindi la nostra vive in un mondo completamente folle che il nostro Lantimos ti tira fuori veramente in maniera incredibile è un film steampunk in realtà dove il vapore propone le auto dove vediamo addirittura delle navi volanti in una meravigliosa Parigi che sta a metà appunto fra una Parigi della belle époque e una Parigi in realtà futuristica ripeto, la forma è mostruosa i colori sono veramente sgargianti la voglia appunto di raccontare attraverso queste sghiembature questi piccoli obiettivi che sembrano quasi che ti fanno vedere dal buco della serratura qualcosa che non dovresti vedere per poi in realtà aprirsi a meravigliosi squarci dove tutta la forza visiva del nostro si snoda attraverso dei cieli clamorosi dei cieli quasi impossibili che esistano e dei cieli completamente artefatti volutamente il film è tra l'altro quasi tutto quello che vediamo dietro in realtà è tutto dipinto ed è dipinto in maniera assolutamente perfetta proprio per dare questo senso di questi cieli che sono quasi innaturali nella loro bellezza incredibile a vedersi per un film appunto che a livello di forma è strepitoso non c'è un momento in cui il montaggio sia sbagliato non c'è un momento in cui la fotografia non sia veramente da lasciare a bocca aperta è tutto è costruito in maniera perfetta i costumi le scenografie ed anche quello che sembra è più banale sembra magari messo lì a casa non lo è mai all'interno di un'inquadratura che l'antimos giostra praticamente come i maggiori maestri certo è un film che se volendo l'ultimo atto l'ultimi 20 minuti un po' cade diciamo così in confronto alla meraviglia secondo me la prima ora e mezzo che siamo di fronte veramente a dei livelli incredibili ma non cade a livello di forma come ho detto perché anche tutta l'ultima parte a livello visivo è veramente incredibile dimostra un'altra volta che l'antimos riesce veramente a fare delle riprese con un gusto clamoroso senza mai andare nel barocco senza mai andare nell'eccessivo una favola in un certo senso che passa dal gotico al romantico attraverso appunto fasi dove la fotografia cerca l'espressionismo puro e fasi dove invece si cerca l'impressionismo puro e attraverso ripeto a una costruzione però scenografica che è ucronica una specie di mondo alternativo una specie di fine ottocento alternativo primi del novecento sembrerebbe e dove appunto la nostra viene calata con tutta la sua semplicità tutta la sua voglia di scoprire in un mondo dove in realtà chi ha voglia di scoprire chi ha voglia di essere libero viene tacciato di essere una merda e ancora di più se poi si è donne in questa favola chiaramente femminista ma che però non riduce solo gli uomini a dire il zerbini ci sono uomini molto interessanti nel film ma ci fa capire come in realtà questi uomini siano essenzialmente stati e siano una eccezione in mezzo a un mare di persone che anche quando dicono di amare questa bella in realtà ne amano solo il possesso l'idea di poter dire quello che fare o non fare di fargli fare quello che vogliono esclusivamente loro in tutto questo è perfetto il personaggio di Mark Ruff lo ha interpretato come ho detto benissimo perfetto per come è scritto e che riesce a raccontare perfettamente l'ambiguità e un certo tipo di egoismo ecco in questo personaggio comunque veramente particolare che parte con una gioia incredibile verso il sesso verso la vita e piano piano viene sempre di più distrutto appunto dalla sua stessa inettitudine in un certo senso della fotografia di Robby Ryan è di quelle che non si scorderanno mai cioè rimane veramente nello sguardo sia quando attacca con quei bianchi e neri incredibili sia quando decide appunto di colorare il tutto oppure di desaturare il tutto un film dove la fotografia praticamente diventa parte integrante finalmente del racconto come nei migliori film così come un montaggio un montaggio perfetto che sceglie dei momenti in cui rallentare e dare appunto il tempo alla storia di potersi muovere nei momenti in cui addirittura lo stesso montaggio diventa quasi da slaptic da commedia in un certo senso quindi un montaggio molto particolare a cura di Mavroz Paradis nome allucinante per un lavoro però clamoroso di montaggio un lavoro veramente unico così come ho detto con la fotografia che rimane nello sguardo subito si riesce subito a capire che il film è costruito benissimo ogni immagine cazzo è veramente da incorniciare e l'antimo si tira fuori tutto il talento che ha proprio visivo e tutta la voglia che ha di raccontare e qui si parte anche alla sostanza una sostanza clamorosa e si parte in un certo senso dal Frankenstein però ribaltato nel nostro Godwin ovvero un Willem Dafoe tutto sfigurato piano di cicatrici sembra realmente lui il mostro di Frankenstein e lei che in realtà la sua creatura che è stata creata più o meno come Frankenstein con l'elettricità e tutto il resto e col cervello in realtà è bellissimo quindi c'è questo rimbalzo questo specie di un'altra volta idea di andare contro a qualcosa che sembra più definito ovvero anche il Frankenstein stesso qui ribaltando completamente il ruolo ed è assolutamente perfetto per come viene descritto Godwin con questo suo modo così tranquillo di affrontare tutto visto che gli è stato fatto di tutto dal padre completamente pazzo che lui però reputa un genio perché faceva tutto per la scienza quindi anche questa idea appunto dello scienziato che fa qualunque cosa per la scienza senza mai nemmeno rendersi conto di un certo tipo di morale etica che però in un certo senso si avvicina in realtà al pensiero della nostra Bella Baxter specialmente all'inizio dove il pensiero della morale e dell'etica non la sfiora minimamente e questo personaggio è veramente splendido di Godwin un personaggio interpretato come ho detto da Dio e che riesce a portare avanti un certo tipo di forza che a un certo punto però si spegne nel momento in cui si rende conto che ciò che ha creato non può essere tenuto in gabbia assolutamente perché ha bisogno della propria libertà in quanto essere umano vivente e la nostra dovrà scoprire un mondo dove appunto le cose che sembrano normali che dovrebbero sembrano normali in realtà sono regole completamente sbagliate che appunto sono state fatte da uomini esclusivamente per uomini e questo è indubbio e il film riesce a trasportarci dentro altri personaggi come ho detto importanti come quello di Mark Raffalo che comunque è un personaggio assurdo il suo amore secondo lui è praticamente esclusivamente il possesso il dover avere sempre l'ultima parola e sempre la scelta dalla sua parte anche nelle cose che riguardano essenzialmente la stessa bella e basta e in tutto questo c'è anche un altro personaggio quello di Max che è il buono diciamo così della situazione che riesce l'unico che riesce a capire in realtà le scelte della nostra protagonista proprio perché anch'esso viene da una classe più povera anch'esso è preso per il culo come vediamo nella bellissima scena iniziale quando stanno facendo l'autopsia e di tutto questo in realtà quindi fa nascere un personaggio per il quale ogni tanto noi empatizziamo perché poi è anche questo nel film in questi personaggi c'è tantissima voglia di ironizzare per un Lantimos stavolta che ha veramente voglia di far ridere e far ridere su cose molto intelligenti e su cose molto interessanti anche la scoperta del sesso da parte della nostra bella è una scoperta naturale senza alcuna vergogna senza alcun pudore ecco la nostra gira per le strade del mondo e senza alcun pudore riesce a masturbarsi con quella scena meravigliosa col cetriolo davanti a tutti che la guardano dicendo ma cosa stai facendo e a un certo punto anche appunto la voglia di esplorare la voglia di muoversi nella nostra bella diventa sempre più importante perché non si può assolutamente rinchiure un essere umano attraverso appunto un'idea che è sempre quella della logica di dover possedere questo essere umano in un mondo dove appunto anche quando le altre donne fanno delle battute o qualcosa la nostra non può mai esuberare non può mai uscire dagli schemi perché sennò questi schemi vengono spezzati e tutto sembra a crollare come un castello di carta appunto come in realtà un certo tipo di società borghese un certo tipo di pensiero tutta la parte poi in Francia è veramente geniale allora se abbiamo tutte queste parti divise chiaramente Lisbona come ho detto Alessandria poi Parigi poi torneremo a Londra in tutte queste fasi la nostra ha dei cambiamenti dei cambiamenti sempre più evidenti se nella prima fase come ho detto dopo la prima parte in bianco e nero il cambiamento più evidente è quello del sesso quindi lei si chiede anche in quella meravigliosa battuta ma perché lei non si fa questo tutto il giorno invece di fare altro e il film appunto fa questa crescita sessuale come una cosa naturale normale che dovrebbe essere quella insomma che dovrebbe riguardare tutti che invece già in quel mondo era guardata come una cosa assurda e incredibile e quando poi parleranno appunto di vorergli levare il clitoride e tutto il resto è una scena veramente incredibile anche terribile si insola dal pensiero e poi insomma il film ripeto racconta racconta attraverso comunque dei movimenti di macchina straordinari attraverso appunto delle scelte di lenti assurde che per alcuni possono essere eccessive invece per me sono proprio una cifra stilistica un qualcosa che racconta attraverso una modernità assoluta e una postmodernità nella messa in scena che fa paura per una storia come ho detto di liberazione una storia vera una storia dove che avvicinarla a Barbie per esempio come hanno fatto alcuni critici è veramente un errore gigantesco qui si sta parlando di un qualcosa di reale di allegorico ma di completamente basato appunto su qualcosa di veramente interessante che non sia una bambolotta qui stiamo parlando di un personaggio che appunto si rilega al classicismo di un certo tipo di letteratura di primi ottocento e siamo di fronte un'altra volta all'ennesima dimostrazione che l'antimo si riesce a creare quello che vuole attraverso una bella sceneggiatura di un Tony McNamara in grandissima forma che ripeto riesce a regalare dei dialoghi fantastici ma riesce a regalare proprio le scene che sono bellissime e che il nostro l'antimo si riesce a mettere in scena praticamente una dietro l'altra a raffica la prima ora del film il primo tempo diciamo del film è una cosa impressionante dall'inizio alla fine ripeto dopo l'idea del quasi di tutto il primo atto della scoperta sessuale che la porterà che è una delle cose più importanti nella vita e è importantissima anche per la nostra bella quando scopre questa donna anziana che gli dice ma io ho 20 anni che non faccio sesso e gli dice come 20 anni come fa si aiuta ogni tanto con la mano con una tranquillità incredibile e la donna comunque si rivolge alla stessa visto che ha una certa età e visto che anche essa è donna con una certa cordialità non ha alcun pudore nemmeno lei così appunto come il ragazzo di colore che è chiaramente nichilista dice che è tutto bello ma non crede nel socialismo non crede nel capitalismo non crede in niente crede che l'uomo sia una merda invece poi è bellissima la scoperta appunto con loro della letteratura della filosofia ci sono alcuni discorsi da Nietzsche a Marx che vanno che è una bellezza e la scoperta appunto del qualcosa in più oltre al sesso che rende ancora più piacevole il rapporto umano con le persone ovvero la scoperta del cervello ciò che hanno fra la testa non più quello che hanno fra le gambe la porterà in un certo senso a scoprire ancora di più la voglia appunto di che cosa la porta ad avere i desideri e in tutto questo poi naturalmente si parte con la seconda parte dove lei incomincia a leggere tutto il resto dove molla Mark Raffolo e decide appunto di gestire il proprio corpo come vuole assolutamente come vuole e lì appunto scopre diciamo così la politica scopre il dover stare meglio e la sua amica Toanette la ragazza appunto nera del bordello gli farà scoprire appunto il socialismo gli farà scoprire l'idea appunto di un mondo che può tranquillamente essere cambiato solo che nessuno vuole che si cambi perché così deve rimanere perché così va bene ai potenti a borghesi a chi davvero comanda e soprattutto a questi uomini che hanno assolutamente il desiderio di non far muovere mai niente per cercare appunto di rimanere sempre nella stessa situazione stabile per non aver mai cedimenti nella loro forza nel loro potere nei loro soldi nel loro volere essere così edonisti e questa parte è un po' tirata via se vogliamo è la parte un pochino più leggera del film lei dice di essere socialista non pari punti va al coso però non affonda più di tanto i denti in questo lantimo nonostante chiaramente ci sia questa idea post marxista alla base anche di un certo tipo di film ma posso dire assolutamente che il film per me è un film riuscitissimo cioè non è un film riuscito è un film riuscitissimo che sì magari ci può avere due, tre, quattro cadute di tono ma come è possibile in tutti i film del mondo una favola nera dove il nero però è dato dalla mancanza di umanità perché la nostra protagonista è ironica la nostra protagonista è intelligente la nostra protagonista sa cos'è il mondo molto più di questi uomini di 60 anni che credono di sapere col mondo e quando ci fa insomma nel bordello tutta la serie di figure maschili è sempre più interessante proprio per come in realtà il nostro regista riesce a tramutare tutto quello in grandissimo intrattenimento e come il film riesca a volare via che è una bellezza a livello di ritmo un film alla fin fine anche mainstream se vogliamo un film che è possibile essere visto da tutti però è difficile essere capito da tutti anche perché comunque è un film che osa osa tanti nudi maschili frontali osa una scena dove lei praticamente trastulla un pene di uno che non è che così facile che farlo fare Emma Stone che è praticamente nuda per mezz'ora di film quindi un film anche particolare verso questo punto di vista un film contro i ben pensanti contro i moralisti che caputo da una parte e denunciano sempre le nudità e tutto il resto e poi nella loro vita invece fanno le peggio schifezze e questo l'antimo se la denuncia attraverso un film particolarmente bello c'è un film con dei costumi incredibili di Holly Waddington che fa un lavoro clamoroso i costumi vestiti di lei sono uno più bello dell'altro così come tutti gli altri ho creatissimo ha la sua voglia di crescere cresce anche con la sua voglia di essere diciamo così indipendente anche nel modo in cui si pone visivamente e anche qui viene aiutato assolutamente da un trucco clamoroso di Mark Collier che fa un lavoro perfetto su tutti i protagonisti anche il trucco e l'effetto su Willem Dafoe è praticamente intoccabile così come è intoccabile tutto quello che è la scenografia di Sean Hatt e James Price che fanno veramente un lavoro incredibile sia negli interni ricostruiti in maniera enorme sia che appunto in questa fantasia nel creare questo mondo è completamente diciamo così vittoriano sì ma che ha al suo interno della roba che sembra uscita da Steam Boy appunto incredibilmente di Otomo cercare di raccontarci il nostro della nostra epoca attraverso un'allegoria che funziona funziona perché non è mai buttata lì corretorica funziona perché le reiterazioni dei dialoghi della nostra non sono dovuti a un voler raccontare per mille volte la stessa cosa dal buon lantimone no sono semplicemente perché la nostra ha bisogno in realtà di capire ha bisogno quindi di rispiegare ha bisogno di dire e ridire sentirsi dire sei mila volte le stesse cose proprio per riuscire a capire che cosa ha davanti perché noi ci troviamo di fronte ripeto a una specie di montro di Frankenstein è completamente vuota è assente da ogni tipo di logica anche naturale nella scena in cui il bambino piange lei si alza e lo vuole picchiare in mezzo al ristorante è fantastica perché è chiaro che anche qui il nostro Jorgessone ci dice che la nostra protagonista è perfettamente libera e questo è una cosa bella ma è una libertà che deve comunque cercare e trovare attraverso anche scelte che devono essere comunque naturali alcune sì non è che ti può mettere a picchiare un bimbino appena nato perché piange quindi una ricerca della nostra di crescita sempre più elevata che ripeto se nella prima parte è il sesso che la smuove quindi la carnalità nella seconda parte è la scoperta appunto di ciò che è l'arte di ciò che è il cervello e nella terza parte è la scoperta della politica la scoperta di poter cambiare il mondo attraverso appunto una società che non vuol fartelo cambiare ma che potrebbe cambiare da un giorno all'altro quindi per me è un film straordinario sotto il punto di vista della messa in scena come ho detto non ho niente altro da dire ci sono dei quadri dove i colori rossi blu la fanno da padrone dei momenti in cui arriva il caldo incredibile dove però ci sono delle scene terribili e poi ripeto il film è trascinante è un film che ci porta avanti perché l'ironia è sempre azzeccata cazzo ci sono delle battute fenomenali c'è un'idea proprio di messa in scena perfetta e ripeto è l'antimo se non si lascia sfuggire mai di mano la narrazione che che ne vogliono dire alla prima visione il film lascia veramente sbalorditi due ore e venti attaccato lì fino all'ultimo secondo dei titoli di coda sperando che ce ne fosse altri dieci minuti perché il film mi aveva veramente lasciato a bocca aperta per alcuni punti un'idea proprio di visiva un'idea proprio di racconto che di questi tempi appunto dove il femminismo e tutto viene così banalizzato appunto da film come Barbie e Robetta di questo tipo qui finalmente prende un discorso molto più ampio e ci racconta un mondo che è tale che è maschilista che chiaramente schiaccia le donne ma che può essere cambiato con la forza delle donne e anche con la forza degli uomini giusti i personaggi sono scritti da Dio la messa in scena è straordinaria l'antimo si ripeto dimostra un'altra volta di avere tanta di quella forza tanta di quella voglia di raccontare che ogni praticamente movimento ogni piccolo carrello ogni piano sequenza ogni uso di macchina a mano qualunque cosa viene messo davanti allo schermo qualunque mezzo viene utilizzato per lanciare appunto quello che il nostro vuole raccontare nell'inquadratura stessa arriva al 100% senza mai cercare scorciatoie senza mai cercare di andare di qua e di là senza mai cercare di cercare un pubblico un pubblico che arriva semplicemente perché è un film che riesce a parlare a tutti in maniera diretta semplice attraverso però una scrittura incredibilmente complicata e attraverso appunto un viaggio che è quello appunto quasi in un certo senso di rinascita di una persona che in realtà a un certo punto scopre quello che è ma anche così vuole avere l'idea appunto ancora maggiore del perché è diventata in questo modo e del perché diventerà altro quindi un film che parla assolutamente di donne ed è incredibile come lo fa parla appunto del maschilismo parla di tutto quello che volete a livello appunto di teorie sul femminismo ma parla in realtà del mondo parla di come il mondo del capitalismo sia completamente sbagliato parla di come i soldi e la mancanza dei stessi facciano impazzire le persone perché Mark Ruff lo impazzisce più perché non c'ha un soldo non gliene frega quasi un cazzo di là in realtà sono i soldi il problema parliamoci chiaro le ha fatto perdere i soldi e quindi là sul cazzo ed è esilarante come la nostra apprenda tutto praticamente senza appunto nessuna remora nessuna niente di precostruito né da quando è piccola perché è già adulta è già bella e può in realtà fare tutto quello che fanno gli adulti e vedere le manstone che lentamente da caracollante che si fa la pipì addosso che non riesce a parlare e vedere che lentamente il suo corpo incomincia a reagire sempre di più e il suo corpo reagisce insieme alla mente più la mente cresce più il suo fisico incomincia ad essere sempre più non bello perché quello è bello dall'inizio ma essenzialmente più pratico anche lei incomincia a camminare meglio a muoversi meglio per una insomma presa di posizione di un film che secondo me racconta il mondo in maniera assolutamente pulita che riesce un'altra volta a metterci di fronte il maschilismo schifoso che purtroppo c'è nel mondo è inutile che la gente lo neghi e che però non è assolutamente un femminismo è sparato a cazzo di cane dove si cerca assolutamente di distruggere il maschio ma non è questo dove si cerca assolutamente di distruggere un sistema costituito che è la prima cosa da distruggere appunto come dice Bella in realtà è il sistema economico e politico e quindi diventare socialisti quindi un film che almeno per me che è comunista solo mi fa solo piacere non solo per quello ma proprio perché racconta ripeto la liberazione mentale e fisica di una donna che non è nemmeno se stessa ma che diventa se stessa nel momento in cui apprende davvero che cos'è l'umanità quindi per me è veramente un film da non perdere volate al cinema perché secondo me è un film che piaccia o non piaccia va visto su grande schermo perché come ho detto è una bellezza abbagliante tutte le città da Parigi a Londra quando ritorno a Londra con quel ponte tutto bianco quella cosa incredibilmente gotica che fa apri veramente il cuore in una serie di riferimenti incredibili al cinema appunto alla letteratura alla pittura qui sotto c'è il link per donare su Patreon seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia qui sotto c'è anche il pulsante le super grazie per donare direttamente su YouTube e quindi che dirvi di più per me questo povere creature è e resta uno dei migliori film già dell'anno se non già il migliore perché è riuscito a costruire qualcosa a livello di forma che mi ha veramente affascinato dall'inizio alla fine e la sostanza non è per niente pesante perché è alleggerita da una grande ironia da una grande idea dei personaggi e da un ritmo incredibile che parte sempre più lentamente per avvicinarsi diciamo anche alla commedia come ho detto proprio comica e poi tornare in un certo senso anche a qualcosa che è sociale e politico attraverso uno sguardo fantascientifico quindi grandissimo l'antimos per un film assolutamente da non perdere